Personalità, sostanza, tenuta mentale, il Pescara è una squadra, lo ha confermato anche sull'infido campo di Castellammare di Stabia. Quinto successo esterno, ottavo risultato utile, 26 punti in 11 partite, la migliore media biancazzurra degli ultimi 50 campionati. Ora due confronti in termini consecutivi, prima la neopromossa Gelbison, poi il Messina dell'ex Gaetano Auteri. Nel prossimo turno fare i puntati sullo scontro diretto Catanzaro-Crotone, il Pescara può approfittarne. Intanto però la Coppa Italia, vigilia del match col Gubbio di Piero Braglia, capolista del Girone B con 23 punti insieme con Lentella. Turnover totale, come giusto che sia Colombo darà spazio a chi finora ha giocato meno. Il probabile 11, sommariva tre pali, in difesa Saccani, in grosso De Marino e Crescenzi. A centrocampo Germinario, Craia e Crecco, davanti Tupta e Delemona, che è a supporto di Vergani. Diverse novità anche nel Gubbio. Braglia dovrebbe confermare il 4-2-3-1 adottato con successo in campionato. Tra i pali sicuramente il vice dell'ex Raffaele Di Gennaro, Marco Meneghetti, classe 2001, arrivato in prestito dalla Spal, in difesa dal primo minuto i laterali Tazzer e Semeraro. A centrocampo assai probabile l'impiego dell'altro ex Danilo Bulevardi. Davanti lo spauracchio Alessandro Arena, 4 gol in campionato, dovrebbe cominciare dalla panchina. Chance invece per il ventenne Gabriele Artistico, nipote degli ex Bianchezzurri, Edoardo e Mario. E per Lorenzo Di Stefano, altro ventenne di Belle Sperenze, preso in prestito dalla Sampdoria. Pronti a subentrare il nigeriano Jerry Bakogu, ex Carpi e Juve Stabia, e l'italo-argentino Federico Vasquez, ex Catanzaro e Virtus Francavilla. Inizio ora è 14.30. Gara ad eliminazione diretta. In caso di parità al novantesimo, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente affronterà gli ottavi sempre in gara secca. In programma tra il 15 e il 17 novembre prossimi, una tra Padova e Imolese.